Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Minecraft. Oggi io vi mostrerò come si vince praticamente ogni battaglia di build battle. Ok, ora prima cosa, piccolo disclaimer, questo qua non è un metodo che ti fa vincere proprio sempre, un po' di skill ce lo devi avere. Però questi sono tip molto utili per come vincere. Ok, iniziamo. Come prima cosa voi dovete assicurarvi di non avere delle texture pack che modificano molto le texture. Adesso io al momento sto usando una texture pack, forse non vi accorgete però se andiamo già nell'inventario vedete che è scuro. Ho i numeri qua per vedere dove sono i diversi item e sono queste, questo texture pack che sto usando si chiama Vanilla Twix. È molto bello e praticamente non cambia le texture nel gioco come vedete. Queste sono tutte le normalissime texture Minecraft, solo che cambia quelle piccole cose no? Proprio piccole piccole che magari non sono belle nelle texture. Perciò cose del genere vanno bene però usare delle texture pack che cambiano del tutto il modo in cui l'aspetto del gioco, beh il suo aspetto ecco potrebbero dar problemi se da voi un blocco ha un colore e dagli altri hanno un altro colore, soprattutto se fate pixel art o cose simili. Prossima cosa, i shaders. Voi direte sì, splashy, noi non dobbiamo usare le texture pack ma tu qua hai uno shader di quelli così, gli altri magari non lo vedono come lo vedi tu sul tuo schermo. Bene, gli shader è vero che cambiano l'aspetto del gioco e fanno sembrare più belle delle cose che magari sono anche brutte, è che il punto è che non cambiano proprio l'aspetto del gioco, tranne se usate qualche shader strana che non conosce, che cambia tutti i colori o che ne so. Finché usate delle shader normali, adesso io sto usando complementary shaders, che secondo me è anche la più bella che c'è sul mercato, potete un po' vedere voi. Quindi direi di buttarci dentro e vedere quante altre cose io vi posso raccomandare. Ok, arriviamo al prossimo punto. Quando voi scegliete cosa costruire, non cercate il tema più bello ma quello più utile. Sun, Hammer, Robot, Rainbow, Leaf. Molti metteranno Rainbow a questo caso, io tuttavia scelgo Robot. Vabbè, avrei scelto Robot perché ci sono molte più cose che puoi fare e puoi essere più creativo. Facciamo però il Rainbow. Questa è una cosa un po' classica. Scegliete i blocchi bene, non usate per esempio direttamente, che ne so, il concrete. Trovate i blocchi che ci stanno di più. Per esempio io adesso direi che potremmo usare del stained glass, se lo trovo ovviamente. Ecco qua. Vediamo. Eh sì. Prendiamo la magenta, il blu, light blue, questo qua. E così, secondo me è una buona scelta. Poi provate sempre a costruire in mezzo, mettetevi in linea perché è semplicemente poi più bello una volta che è finito il tutto. Ok. Quando arrivano i 4 minuti raga, non andate in panico, avete ancora molto tempo. Comunque provate a pianificare sempre in modo che voi possiate sempre poi avere almeno 30 secondi per migliorare qualcosa di piccolo. Provate anche avere un tema un po' originale. Ovviamente io adesso non costruirò soltanto un arcobaleno, costruirò qualcosa di speciale con l'arcobaleno. Infatti l'arcobaleno è una parte anche abbastanza piccola della mia costruzione perché io ho deciso di fare la neve che poi saranno ovviamente le clouds, ora non mi viene il nome italiano, sì certo. Le nuvole, le nuvole sono il termine giusto, le nuvole che formeranno poi l'effetto bello che il nostro arcobaleno darà. Provate ad avere delle variazioni di texture nel vostro, nella vostra costruzione. Non fate una cosa piatta, una cosa senza gusto, fate una cosa bella con tante variazioni. Poi soprattutto per le build battle piace anche molto alla gente quando fate delle cose che sembra un po' spammate, ecco. Vedete questo. Ora, provate anche a trovare forme diverse. Per esempio io adesso userò il white stained glass per fare un po' un effetto, no? Ecco, avete presente? Effetto di nuvola vapore. Spammate anche un pochino, non avete paura. Non abbiate paura per essere italianicamente corretti, grammaticalmente corretti. Scusate il mio italiano, sono tedesco tecnicamente, perciò non è una grande cosa credo se sbaglio. Sono straniero perciò che ne dovrei sapere io dell'italiano. Ok, 30 secondi, ho finito e secondo me questa è una costruzione carina, tuttavia potrei prendermi anche la briga di fare un paio di correzioni, come vi avevo detto. Lasciatevi sempre un 30 secondini per aggiungere quello che vi sembra carino. Vabbè, adesso qui non ce l'ho fatta. Spammiamo un po' così. Ah, è venuto, è venuto qualcosa. Ok, votate sempre bene, votate sempre come amici e questo qua secondo me è ok perché ha costruito molto, io non ci sarei riuscita a fare una struttura così grossa. Questo qua, scusate però quando fa schifo fa schifo, questo è poop completo. Ok, adesso so che è un tutorial, guardiamo lo stesso. Ok, vedete già che questo qua, carino, cioè, cosa devo dire? Ok, so che è un tutorial, non dovrei fare il voting e semplicemente saltare, però vabbè. Questo qua ha fatto una cosa bella, devo dire. È stato molto creativo, io gli do un good perché è stato proprio creativo. Ok, questo qua l'ha fatto proprio che vola nel cielo. Ok, secondo me è ok perché non è niente di speciale però. Ok. Questo qua è classico, cioè, però è così classico che io gli do un poop perché è troppo classico, non puoi. Pixel art di solito non mi piacciono, poi questa non è neanche molto particolare. Poop. Secondo me è poop perché, cioè, questo era molto piccolo. Questo ha fatto una bella testolina ma nella testa non ha niente, perciò gli mettiamo un super poop. Scusate se quello che sta costruendo questa cosa vede il mio video, però è vero, se fai una cosa del genere nelle build battle non c'è scusa. Vedete questo qua è poop perché non l'ha fatto nel centro, è brutto così, ok? Nel centro è più bello. Questo non l'ha finito perché di solito, ah, non ha calcolato bene. È un pupino secondo me perché qua non vedo... Questo ha fatto, non so se è una shader però se sì, ha fatto un bel effetto di luce. Tuttavia qua non mi piace come esce dal... Ecco, questo qua di nuovo non ha preso bene le misure. Per me è poop perché non ha preso le misure. Guardate questa cosa qui, se vi sembra bella non saprei. Poi, questo qua ha fatto un rainbow triangolo con un fence a caso tattico, che ne so. Poop per me, scusate, ma non ha manco preso bene le... Come dire, le misure. Questo qua ha usato i coral block, sinceramente io non capisco perché la gente vuole fare... Cioè è brutto, ok? È semplicemente brutto. Che a chi ha vinto, ha vinto questo, ok? Come detto, non si vince sempre. Io a che posto sono arrivato? Sono arrivato terzo posto. Va bene. Secondo me è stata una bella partita. Devo aver avuto proprio dei nemici molto, molto bravi perché... Questo è tutto per il nostro episodio, amici. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi. Questa partita non è andata incredibilmente bene, però è stato qualcosa, ok? Perciò, come detto, lasciate un like, iscrivetevi. Questi sono tip sempre utili in qualsiasi build battle e ci vediamo alla prossima. Ciao!